Super Mario Maker 2 Per te Vediamo un po' Cancellino Certo come si può chiamare Fuga dalle gru oscillanti No allora Per il video di oggi Andremo a fare qualcos'altro Invece Livelli del mondo E ho giocato già un po' La sfida infinita A livello facile Ma La sfida infinita A livello esperto La farò un pochino più Quando avrò ripreso bene la mano Mettiamo un ID Vi pare che me lo facevo scappà? Desert Wars Ah Attenti ai Koopa Ah Ok Quindi il problema sono i Koopa Ma ha anche il vento A quanto pare Non così in alto Però grazie E vabbè Aspetta Aspetta Ebbè Ok Essere un po' scarsi Ma non così tanto Aspetta Quindi se la molla Magari di lanciarla C'è anche il vento Però la molla Non Non risponde Alle leggi della fisica Aiuto Aiuto i Koopa Ovviamente Ehi Ci sono anche i cosi là Che lanciano Aspetta Oltre le piante Piragna Perfetto Perfetto Nooo Potevo scendere un attimo E aspettare che finisse Potevo Potevo Perché non l'ho fatto Perché devo prendere Il fungo Perché devo prendere Il fungo Ecco qua Ora possiamo andare YOLO Guarda che velocità Che sbaglio Ok Non lo conta Yo Oh Checkpoint Checkpoint Ok Sono salvo ancora Per un po' Bravo che ha messo Il checkpoint Ci volevo Un checkpoint Nelle vicinanze Abbiamo la luna Ma io so che la luna È buona Salta qui Bravissimo Beh Oddio Doveva essere Un pochino più lungo Dato che c'era Checkpoint lì Però ha fatto bene A metterlo Ci vuole un checkpoint A un certo punto Però Non lo so Era un po' messo male Prima di tutti Ricominciamo Potrei farlo Ancora più veloce Bello dai Un bel livello Su Non si può dire nulla Potrei provare Competizione Di giocatore A quest'ora Dovrebbero essercene Tipo Diecimila Ho visto Un video Ieri Di uno Che giocava In In competizione E c'era Un lag Pazzesco Ecco Satan Ci mancava Sono Todd Blue Sono In posizione D Praticamente Non ho mai Giocato Ancora In competizione Ecco il lag Che si fa sentire Ovviamente Eccolo Vai ora Mamma mia Ragazzi Che lag Com'è possibile Che laghi Così tanto Nintendo Explain Please Nintendo Explain Why Is He Lagging So So Much In italiano Maccheronissimo Oddio Salta Ok 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 Gira 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 Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Indietro 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 Eccolo Eccolo Vedi 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 Todette Ce l'ha fatta Eh ma dai Todette Allora Fuori Dalle p... Fuori Levatevi Todette Sta per vincere Ma non capite niente Voi Levatevi Avete fatto salire Todette Ma come Ma che cavolo Se lo sapete Io lo so Dai 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 Che vuoi Che vuoi Non ce l'hai fatta Di là Non ce l'hai fatta Da sola Todette Kun Ok Yeah E sali 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 Vabbè ragazzi Per me Non ce se la fa Ma che ricominciamo Ma ti arrangi Cosa abbiamo imparato Dalla modalità Competizione Che lagga Da fare Schifo Su 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 Un po' Il boss Ha abbandonato Peggio per lui E vabbè Siamo rimasti In due Alla fine Non è neanche tanto giusto Alla fine Quello Mo vince Ecco Guarda Mo non lagga Vedi Vabbè Si sali Però Questo Devo aspettare Che si arrampica Si aggrappa Perché il gatto Capito Ciao Fatto Beh Ho vinto Fatto Beh Ha Grande Non ti azzardare A fare anche Tu la bossa Di vittoria Che hai perso Secondo Secondo In attesa Che tutti Vogliono Ma se quelli Hanno perso Fa schifo Il livello No Eh Tu che dici Non mi saltare Sopra Oh non lagga Bene Ah Grazie Che mi eliminate I nemici Come sono morto Da stupido Come sono morto Da stupido Oh 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 Ok Qui si C'è Grande No Piccolino Vai One up E vinto Vai cavolo Andiamo Let's go Normale Normale Non era proprio tutto Quanto sto bello Eh Vedi posso fare anche solo competizioni Invece di far schifo In tutti i livelli Almeno qui vinco Eh Va bene Cuccio Per oggi il video termina qui Insomma Sarà quel che sarà Quanto è lungo Non mi interessa L'importante è che ho vinto due livelli Almeno due li ho vinti Oltre quello di Freakets Ma vabbè Per i prossimi video Penso che porterò appunto La modalità competizione Che Sì A volte Slagga di brutto A volte è veloce Penso che lo Spero Non penso Spero che lo aggiustino Nei prossimi giorni Allora di modo Cuccio Il video termina qui Io spero che vi sia piaciuto E inoltre vi ricordo Che in descrizione C'è il link per Instagram E se ancora non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre Al prossimo video Bye bye